variante inglese del covid chiuse scuole nell'anconetano e maceratete strade di sangue la tragedia di elisabetta e federico manifestazione d'arte e cultura degenere in assembramenti e polemica sport vincono wl ital service pareggi positivi per bis e fano una buona serata a tutti voi telespettatori e telespettatrici di rossini tv che ci seguite sul canale 633 delle digitale terrestre ben ritrovati a rossini news il nostro telegiornale della sera che in questa edizione di lunedì 8 febbraio apriamo parlando della situazione covid 19 nelle marche regione che osserva con attenzione infatti l'evoluzione di alcuni casi di variante inglese del covid emersi nelle province di ancona e macerata attenzione alta alla variante inglese del covid 19 una variante di elevata contagiosità che ha fatto capolino nelle marche e soprattutto nelle scuole sei casi già accertati a tolentino pollenza e castelfidardo che vanno a violare la tranquillità delle province di ancona e macerata dopo una riunione urgente convocata ieri fra l'assessore regionale alla sanità filippo saltamartini i dirigenti dell'asur e gli amministratori dei comuni coinvolti si è deciso di predisporre in didattica a distanza gli studenti di tre scuole di tolentino sotto osservazione oggi sono stati predisposti anche tamponi molecolari a tutti gli allunni coinvolti screening attraverso un gazebo adibito a drive test che continuerà anche domani attualmente non c'è nessun caso accertato nella provincia di pesaro così come in quelle di fermo e ascoli piceno l'asur però estrarrà dei tamponi per la verifica dell'eventuale contaminazione del caso inglese anche dalle persone testate nelle aree vaste 1 3 e 5 ad oggi credo che il monitoraggio la possibilità di fare tamponi e cercare di andare individuare isolare sia lo strumento più importante in questo momento non si pensa ad una iniziativa più impattante rispetto a questa questione della variante inglese chiaro è che nelle prossime ore nelle prossime giornate dovremo vedere l'andamento se l'andamento dovesse essere un andamento molto importante allora si potrebbe pensare anche ad intervenire in maniera diversa e magari cercare di circoscrivere con degli strumenti di tipo diverso l'espansione di questo contagio della variante inglese non parliamo né di zona rossa né di zona arancione parliamo di quegli strumenti che dovessero essere messi in campo e che potrebbero essere tenuti importanti per cercare di arginare un eventuale contagio che si va a diffusione del contagio però questo diciamo è un'ipotesi che ancora io vorrei tenere remota perché speriamo che i numeri restino bassi oggi abbiamo un numero molto basso anche di contagi in linea generale sia sintomatici che asintomatici questa mattina negli ospedali non c'era a differenza degli altri lunedì non c'era un calca e affollamento quindi è un elemento positivo restiamo in allerta restiamo in allarme però ecco ancora non c'è una situazione che sta presupponendo un impatto così importante da doverci far scegliere di fare una zona rossa se nelle prossime ore però questo va detto la situazione dovesse evolvere in maniera pesante e per non rischiare per evitare di far precipitare intere province o l'intera regione in una situazione spiacevole potremo valutare alcuni provvedimenti ulteriori ma in questo momento credo che la situazione possa essere ritenuta sotto controllo e intanto il report del lunedì per quello che riguarda i contagi nella regione Marche è come di consueto figlio della ridotta dotazione di tamponi domenicali ne sono stati effettuati 1.306 nelle ultime 24 ore di cui 669 nel percorso nuove diagnosi 171 i casi rilevati per un 25% di incidenza percentuale mentre sono solo 11 i casi di contagio registrati in provincia di Pesorurbino stabili i dati dei ricoveri nelle Marche 603 di cui 73 in terapia intensiva nella giornata di ieri si sono registrati anche 8 decessi e da domani 9 febbraio fino al 15 di febbraio si svolgerà la settimana della raccolta del farmaco alla quale hanno aderito 43 farmacie della nostra provincia si tratta di una settimana in cui i cittadini potranno donare un farmaco sostenendo 30 enti del territorio che si prendono cura dei bisognosi farmacie che però sono pronte a diventare anche un luogo in cui poter effettuare i tamponi rapidi così ci spiega il presidente di Aspes SPA Luca Pieri come stiamo facendo già i test serologici non cambierebbe nulla abbiamo richiesto sia come Assofarm che rappresenta le farmacie comunali che come Federpharma che rappresenta le farmacie private appunto di allargare lo screening dei tamponi dei tamponi rapidi a tutte le farmacie capite nella regione 550 farmacie che hanno una rete capillare dislocate su tutto il territorio che permetterebbero ovviamente dietro un pagamento di poter effettuare anche il tampone rapido che permetterebbe di poter così ulteriormente testare la popolazione dal punto di vista del contagio già in altre regioni viene fatto crediamo che con la buona volontà nostra e della regione a breve arriveremo anche a questo tipo di accordo per poter svolgere questo tipo di servizio e ci lasciamo alle spalle una domenica scossa dal terribile incidente mortale in autostrada tra pesaro e cattolica in cui hanno perso la vita due volontari animalisti che stavano trasportando un carico di cani e gatti destinati all'adozione vediamo il servizio una vita dedicata agli animali abbandonati tragicamente interrotta nel viaggio intrapreso per dargli una casa una famiglia e un futuro elisabetta barbieri e federico tonin sono morti nell'autostrada a 14 fra pesaro e cattolica all'alba di domenica entrambi milanesi entrambi in viaggio su un furgone che trasportava 50 cani e 10 gatti lungo la dorsale adriatica drammatico epilogo di una staffetta partita sabato sera dalla puglia e diretta in lombardia alternando fermate in cui portare gli animali domestici destinati all'adozione attorno alle 5 di mattina di domenica all'altezza di gradara il furgone su cui viaggiavano ha trovato sulla sua strada un tir incidentato giratosi di traverso sulla carreggiata federico tonin alla guida del furgone ha evitato l'impatto con alcune lamiere ma non col mezzo pesante un urto devastante e senza scampo federico 47 anni è morto al suo primo viaggio da staffettista così come deceduta elisabetta barbieri 63 anni esperta di questo genere di spedizioni e animalista conosciutissima in tutta l'italia una persona nota è apprezzata anche dall'empa e loipa di peso urbino le cui guardie zoofile sono immediatamente intervenute sul luogo dell'incidente soccorrendo gli animali sono stati constatati cani e gatti feriti altri fuggiti e poi recuperati e purtroppo anche la morte di charlie pastore tedesco di cinque anni ad aiutare le guardie zoofile anche il prezioso intervento di due camionisti spagnoli che trasportavano cavalli e che per sette ore hanno custodito gli animali sul luogo dell'incidente fino all'arrivo di un altro staffettista dell'empa di bologna che ha completato il viaggio di cani e gatti da adottare a bordo del furgone con elisabetta e federico si invece salvato il 47 anni alessandro porta che rimediato ferite poi curate in ospedale ed ora ci occupiamo di monbaroccio un comune che è pronto ad una serie di radicali interventi nelle scuole del paese come ci spiega il sindaco emanuele petrucci abbiamo portato a casa 2 milioni e 600 mila euro quindi sono progetti ministeriali con un comune di monbaroccio ha contribuito con un mutuo di 77 mila euro per la differenza tutto carico ministeriale quindi 2 milioni e 600 mila euro che potranno intervenire sulla scuola primaria secondaria di monbaroccio nonché sulla palestra comunale attiva stiamo avvaliando le delibere stiamo portando avanti i progetti e l'appalto sarà previsto per per maggio tipo di interventi saranno saranno di efficientamento energetico e di riqualificazione energetica nonché della sismica e dell'adeguamento sismico in particolar modo progetti anche per quanto riguarda palazzo dal monte assolutamente abbiamo portato anche lì a casa circa 60 mila euro di copartecipazione con il ministero 80 per cento finanziato dal ministero 20 per cento finanziato al comune di monbaroccio per un progetto preliminare 60 mila euro il contributo complessivo e l'idea è quella di presentare il preliminare entro la fine di febbraio quindi a in questo mese in corso per poi presentare successivamente un progetto definitivo esecutivo 120 mila euro anche quelli di fondi ministeriali che sono tutti a fondo perduto quindi il comune di monbaroccio non dovrà tirare fuori un soldo il progetto di palazzo del monte è fondamentale perché laddove dovessimo tenere poi da questi progetti finanziamenti vorremmo creare una sinergia fra quella che la cultura il sociale l'amministrazione e la promozione delle attività produttive del territorio tutte in un unico ambiente laddove l'amministrazione comunale diventa veramente il fulcro non solo in termini giuridici ma anche in termini fisici perché diventa il cuore di queste due aree sinergiche in questo caso quindi questi interventi che tipo di interventi saranno ci sono anche degli enti internazionali coinvolti assolutamente sì stiamo lavorando con l'università degli stati uniti texas che ci ha dato il manforte per quello che il progetto preliminare con tutte le idee venute dai ragazzi universitari con tutta quella che la creatività che poteva discendere da questi nonché la collaborazione delle professori stessi vediamo come si evolverà sicuramente avere i progetti nel cassetto vuol dire avere una speranza in più per ottenere quelle che sono le risorse intorno ai due milioni di euro che serviranno per istrutturare il palazzo questo sabato in piazzale lazzarini si è tenuta una manifestazione pensata per incentivare alla riapertura dei teatri e sostenere la cultura una manifestazione che però ha finito per creare diverse polemiche come ci spiega il prossimo servizio un post su facebook del sindaco matteo ricci con tanto di condivisione di titolo del resto del carlino di domenica ha condannato una manifestazione che si è rivelata qualcosa di ben diverso dagli intenti iniziali sabato in piazzale lazzarini si è infatti alzato il grido d'allarme di parte del mondo della cultura e dell'arte pesarese completamente congelato dalla pandemia ricci ha però stigmatizzato come il comprensibile grido di dolore degli artisti si sia trasformato in una manifestazione no mask e no vax a 200 metri dall'ospedale poche mascherine poco distanziamento e molta più propaganda no vax secondo il post di ricci non è questa la cultura dalla quale ripartirà la città una situazione che ha finito per offuscare quello che era il nobile intento di riapertura dei teatri per cercare di ricordare agli stessi artisti a tutte le persone e anche a chi governa questo paese quanto l'arte sia importante e quanto sia ingiusto inconcepibile e anche illogico tenere chiusi questi luoghi di cultura ieri o l'altro non mi ricordo l'assessore alla cultura di milano ha indirizzato una lettera pubblica al nuovo presidente entrante mario draghi ricordandogli quanto sia importante l'arte e la cultura che sono il vero patrimonio artistico spirituale umano di questo paese che noi non vorremmo mai dimenticare e mai arrenderci a quella che con un eufemismo orwelliano è la definita la nuova normalità noi non riusciamo a capire per quale motivo spazi così importanti gli spazi culturali perché è proibito agli artisti ai musicisti di tenere non solo in teatro ma anche per dire in un in un ristorante in un ristorante che è aperto pranzo e tra l'altro i ristoranti lo stesso noi siamo solidali con loro e con le stesse palestre le palestre un luogo dove dove si pratica proprio sport lo sport che porta gioia porta benessere fisico quindi non capiamo perché le cose che portano benessere fisico e spirituale siano state silenziate corrado ti ricordi la data dell'ultima tua performance 24 febbraio è il punto il punto è grave perché c'è qui si sta zerando proprio veramente l'economia mondiale allora a questo punto mi domando forse bisognerà risolvere il problema della pandemia se così la vogliamo chiamare poi a proposito di ristori è arrivato nulla no a me qualcosa della sia e perché sono autore compositore quindi qualcosa mi è arrivato ma fa ridere a confronto io non lavoro da da febbraio dell'anno scorso r 20 20 è una sorta di contenitore a livello nazionale stanno nascendo tutti questi fuochi di resistenza qui a pesaro noi siamo nati per dialogare con tutte le associazioni comitati e quant'altro stanno nascendo quindi dai roba e ora basta marche che nel frattempo è arrivato non più solo nelle marche ma a livello italiano la marcia della liberazione con la quale ovviamente collaboriamo e l m3v che è il gruppo ovviamente a livello nazionale e quindi i nostri cavalli di battaglia quali sono il fatto soprattutto di far capire agli italiani che bisogna avere più consapevolezza e bisogna in qualche maniera risvegliarsi un attimino da quello che ci stanno imponendo con la televisione e con tutti i mass media il comune di pesaro ha stanziato 500 mila euro in bonus sull'atari per le attività commerciali in difficoltà un contributo fra il 40 e il 50 per cento sulla tassa dei rifiuti versate nel 2020 che è rivolta a tutte le attività che hanno ricevuto più restrizioni dai dpcm o hanno subito un calo superiore al 30 per cento del fatturato rispetto al 2019 seconda edizione per residenze digitali il bando di amat che sostiene la creatività degli artisti con progetti pensati per il web artisti che hanno tempo fino all'otto marzo per partecipare ad una seconda edizione del bando che propone un contributo di 3.500 euro per sei progetti da sviluppare durante il 2021 si chiama purify go il progetto pilota della regione marche che a cominciare da ancona e jesi metterà su strada quattro autobus con dispositivi filtranti che mentre i mezzi circolano catturano anche i livelli di particolato nell'aria con l'obiettivo di ridurre la pressione dell'inquinamento atmosferico gli assessori francesco baldelli e giorgio latini hanno annunciato un doppio investimento della regione marche due milioni per installare nelle aule scolastiche impianti di ventilazione meccanica finalizzati a ricambio d'aria e alla sanificazione altri 2,5 milioni investiti per fornire alle famiglie marchigiane svantaggiate strumenti utili a superare il digital divide da oggi anche l'associazione dei bed and breakfast bnb luoghi di raffaello rossini e vitruvio ha aderito ufficialmente a confcommercio pesero urbino marche nord ed ora lo sport perché è stato un weekend estremamente positivo per la carpegna prosciutto basket pesero ma possono sorridere anche vispesero alma juventus fano e tal service non poteva esserci miglior biglietto da visita per presentarsi venerdì al forum di milano la carpegna prosciutto basket pesero si proietta alle final eight di coppa italia sull'onda di un'altra convincente vittoria in trasferta prestazione di forza trento per i ragazzi di repecia che battono 81 a 70 alla dolomiti energia per la soddisfazione del coach croato siamo arrivati con una concentrazione giusta con cattiveria giusta con con una preparazione giusta abbiamo risposto la loro fisicità al loro atletismo dal primo minuto abbiamo giocato veramente una grande partita vinta con pieno merito secondo me primo tempo sofferti dove dove abbiamo sofferto dove abbiamo aspettato onestamente ma no così tanto loro rimbalzi in attacco non rimbalzi in attacco dove hanno messo 11 punti secondo tempo abbiamo controllato molto meglio rimbalzo difensivo che ci ha dato fiducia in attacco sicuro qualche lettura meglio doveva doveva essere ma tutto sommato io sono soddisfatto e vorrei ne approfittare fare complimenti di cuore ragazzi per una vittoria importante per noi nel calcio continua il momento positivo di vispesero e fano che pareggiano in trasferta sui campi di mateliche san benedetto a macerata la vis va sotto nel primo tempo per la punizione di volpicelli ma pareggia 1 a 1 all'ottantesimo col primo gol bianco rosso di gucci che vale il terzo risultato utile consecutivo e l'uscita dalla zona play out dopo legnago ci siamo radunati quello è successo un qualcosa dentro di noi che ha fatto scattare quella molla che serve per raggiungere un obiettivo importante siamo adesso fuori da dalla posizione dei play out però non dobbiamo abbassare la guardia non dobbiamo abbassare la guardia dobbiamo ancora di strada luce neanche ancora tanta da fare e dobbiamo adesso recuperare più energie possibile perché sabato abbiamo una uno scontro molto importante a tallonare la vis tre punti dietro i peseresi c'è l'alma fano che ha sfiorato un'impresa san benedetto è finita due a due con i fanesi sotto di un gol e di un uomo per l'espulsione di nepi che sono però riusciti a ribaltare il risultato con il rigore di barbuti e il gol di scimi a due minuti dal termine all'ultimo secondo è però arrivato anche il rigore di lescano per la san benedettese che ha fissato il punteggio sul 2 a 2 definitivo secondo tempo ho visto una buona san benedettese che ci ha messo in grandi difficoltà bisogna anche a volte dare merito all'alversario secondo tempo giocando in dieci i ragazzi sono quasi bravi, compatti, siamo riusciti a fare un gol, a passare in vantaggio purtroppo poi nella prima volta ci siamo fatti raggiungere continua a vincere l'Ital Service che spugna Genova 2 a 6 con una tripletta di Borruto, gol di Salas, Onorio e Deleuvera martedì alle 20 si torna in campo al Pallanino Pizza con la Color Max Pescara e con lo sport del lunedì si conclude questa nostra edizione delle telegiornale prima di salutarci vi ricordiamo però qualche appuntamento a cominciare dalla nostra prima serata che comincia alle 21 e 15 con l'appuntamento con palcoscenico Marche dedicato al Palazzo Ducale di Urbino a seguire alle 21 e 30 il documentario le stelle continueranno a brillare Pesaro negli anni 1935-1945 appuntamento invece per domani alle 20 da non perdere per gli amanti dell'Ital Service e del calcio a 5 partita in diretta trasmessa da Rossini TV a partire dalle 20 partita di campionato dell'Ital Service contro la Color Max Pescara l'informazione su Rossini TV vi ricordiamo che torna come ogni giorno in diretta alle 7 e 20 di mattina anche domattina con la rassegna stampa Buongiorno Rossini come sempre in diretta dagli studi di Rossini TV ed è davvero tutto per questa nostra edizione delle telegiornale da tutta la redazione il più cordiale saluto e una buona continuazione di serata con i programmi di Rossini TV grazie a tutti